Ciao amici benvenuti nel mio canale. Ti sarei grato se ti piacesse e iscriviti al canale prima di iniziare il video. Resta sintonizzato per le ultime notizie. El Chin Sangu, che i fan della serie vorrebbero vedere sullo schermo, ha provato per un po' un'esperienza molto diversa. L'attore è salito sul palco e ha fatto un altro forte passo verso la sua carriera prendendo parte allo spettacolo, intitolato Nessuno nella città. Lo spettacolo teatrale, presentato in anteprima allo zorno PSM il 22 febbraio. Descrive le virtù e il potere dell'essere donna. Oltre a El Chin Sangu, nella commedia su cosa è successo al personaggio di Rukie, fuggito da un caos nella campagna anatolica a Istanbul, hanno recitato anche Alice Kiner Alici, Kerem Arslanolo, Elif Urse ed Ersin Arc. I fan di El Chin Sangu hanno anche evidenziato l'esperienza impressionante dell'attore con i loro post sui social media. Migliaia di messaggi, in cui i fan mettono in evidenza sia il gioco che El Chin Sangu con foto diverse, vengono condivisi sui social media. Una delle sue fan ha scritto di El Chin Sangu, è bello vederti in un progetto così orgoglioso ed essere di nuovo parte della tua eccitazione, anche se da lontano. Tutto il meglio per te, buona fortuna caro. I fan, che hanno dichiarato che cammineranno sempre con El Chin Sangu. Hanno entrambi mostrato il loro amore e hanno fatto sì che il gioco si diffondesse a un pubblico più ampio. La performance dell'attore ha ricevuto una standing ovation, mentre tutti aspettavano che lei prendesse parte alla serie. La famosa attrice ha intrapreso un nuovo viaggio con grande entusiasmo per mostrare i suoi talenti a teatro. Grazie a tutti.